A distanza di oltre tre anni dalla tragica scomparsa di Diego Armando Maradona, suo figlio primogenito, Diego Armando Maradona Jr., si è confidato in un'intervista esclusiva a Verissimo, rivelando dettagli scioccanti sulla morte del celebre Pibede Oro. Nel corso della conversazione con Silvia Tofanin, Maradona Jr. ha toccato numerosi argomenti, dalla battaglia legale per ottenere il riconoscimento della paternità al dolore insopportabile per la perdita del padre. L'ex calciatore ed allenatore ha dichiarato, è un dolore grandissimo. Il senso di vuoto non andrà mai via. Ma l'affetto che tutto il mondo dimostra verso di lui allevia il dolore, o almeno in parte. Il figlio del leggendario Maradona ha parlato con commozione dei quattro anni trascorsi accanto al padre dopo la lunga battaglia legale per il riconoscimento della sua paternità. Ho avuto il privilegio di stargli vicino ed avere un rapporto normale tra padre e figlio. Sono stati quattro anni molto belli. Tuttavia, il dolore più grande di Diego Armando Maradona Jr. è stato non poter presentare al padre la sua amata figlia, il mio più grande rimpianto è che mio padre non abbia potuto conoscere mia figlia. È stato molto difficile da accettare. Provo molto dolore, non ho accettato fino in fondo la sua scomparsa. La rivelazione più scioccante è arrivata quando Maradona Jr. ha discusso della morte del padre e ha espresso dubbi sulla sua gestione medica, c'è un'inchiesta aperta. Noi come figli abbiamo grande fiducia nella giustizia argentina. Io sono convinto che non doveva finire così. Ce lo hanno ammazzato. Chi è stato non è compito mio dirlo. Io ho una mia idea ma non lo posso dire. Lo hanno lasciato al suo destino quando si poteva fare qualcosa. Il figlio dell'indimenticato campione ha rivelato che poco prima di morire, Maradona aveva subito un intervento alla testa programmato da tempo, ma che non era grave. Dopo l'operazione stava bene, rideva e scherzava. Io ho fatto una promessa, fino all'ultimo giorno della mia vita lotterò per avere giustizia. La dichiarazione di Diego Armando Maradona Jr. ha gettato nuova luce sulla morte del celebre calciatore argentino, aprendo la porta a ulteriori indagini e interrogativi sulla sua fine prematura. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.